Oggi andremo ad eseguire una ricerca dinamica di un dato all'interno di questa tabellina. Che cosa significa? Qua su ho una casella di ricerca, quindi in base a quello che vado a scrivere nella casella di ricerca lui andrà a cercare tutte le righe che contengono nella colonna cliente i caratteri RI. Se vado a mettere RO di Mario Rossi mi compaiono tutti i nomi che contengono questi due caratteri. Come funziona questa formula? È una formula matriciale, una delle formule nuove di Excel. Quindi se andiamo qui sulla prima cella, perché se vedete se mi sposto sulle altre celle compare sempre la stessa formula in cima, ma vedete che è in grigetta quindi non la posso andare a modificare. Le formule matriciali si modificano sempre nella cella in alto a sinistra. Se vado sotto non troviamo niente perché qui non ho risultati. Se vado a mettere RI la formula si estende in automatico sotto. Quindi come dicevamo andiamo in cima, in alto a sinistra e vediamo come è fatta la formula. Faccio un F2 così la vediamo. Eccola qua, qui abbiamo un filtro, un val numero, un ricerca. Come funzionano queste funzioni? Allora noi dobbiamo effettuare, partiamo dal centro che è quella della ricerca, dobbiamo effettuare una ricerca del contenuto di questa cella all'interno di questa tabella. Quindi nel nostro caso cercheremo tutto quello che è contenuto nella colonna cliente. E quindi cosa facciamo? Ricerca, cerchiamo il valore A2 che è questo qui e lo cerchiamo nell'intervallo F5 F18 quindi nella colonna cliente perché qui dobbiamo andare ad eseguire una ricerca. A questo punto il risultato di ricerca che cosa sarà? Proviamo ad andare a scomporlo così lo vedete e lo capite anche meglio. Qui facciamo un uguale, facciamo la ricerca e la mettiamo dentro. Se andiamo a vedere lui ci dà questo output qui, quindi ci dà dei numeri. Ma cosa sono questi numeri? In realtà questi numeri è la posizione in cui trova il primo carattere che abbiamo digitato qui. Se vedete M A R è il terzo carattere. Se abbiamo qui, se andiamo nella seconda, 10 giulia neri. Quindi la R sta sul decimo carattere. Quindi ci dà questo output. E vediamo dove non trova nulla, quindi dove non trova corrispondenza, ci dà un errore valore. E qui entra in gioco la funzione valNumero, perché con valNumero noi andiamo a convertire quello che è in numero viene convertito in true, quello che non è numero viene convertito in false. Così non avremo questo errore di mezzo che poi dà fastidio alla funzione filtro. Se andiamo quindi ad integrare il valNumero alla ricerca, che abbiamo qui, inserisco semplicemente le parentesi tonde, e premo invio, vedete che qui è vero, 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 falso, 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 vero. Quindi abbiamo convertito il nostro risultato in true, false, in un valore booleano. A questo punto basta andare ad integrare la funzione filtro. Che cosa va a fare la funzione filtro? Va ad eseguire nel primo parametro la ricerca in questa tabella, quindi restituirà tutte le righe del range che sono andato a selezionare. Se andassi ad accorciarlo non avrei in uscita la colonna valore, perché lui mi riporta tutto quello che ho messo in questo range. Che cosa va a ricercare? Quindi vado ad includere, quindi la matrice che vado a riportare è questa, e nel secondo valore, questo qui, andiamo a riportare praticamente tutti i risultati dove il filtro è vero. Quindi in questo caso abbiamo vero, 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 e falso, lo andrà a scartare lo scarta come record. Dopodiché, nel terzo parametro, che è opzionale, vado a mettere un risultato nel caso non trovi nessuna corrispondenza. Facciamo un esempio, scrivo testo come all'inizio, vedete che è tutto falso, quindi qui la matrice non mi espande nessun valore, perché tutte le righe non sono soddisfatte dal filtro. Con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi, magari pensate a stipulare un abbonamento, col tasto abbonati che trovate qua sotto al video, comprare un video che vi spiega tutti i servizi che offre il mio canale, invece se vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate tantissimi altri modi per supportarmi. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!